SIGLA Abbiamo visitato metà dei night di Londra e non abbiamo trovato niente di adatto. Io torno a casa. Anch'io sono stanco. Ci vediamo domattina alle nove. Ah, mi siete di grande aiuto. Zia voleva fare qualcosa di speciale. Regali ai suoi vecchi una bottiglia di scotch. Credo che sarebbero più contenti. Grazie a tutti. Come un alato messaggero del cielo agli occhi dei mortali che arretrano nel vederlo mentre varca le pigre nuvole e veleggia nell'immenso grembo dell'aria. Oh, Romeo, Romeo. Ma perché sei tu, Romeo? Rinnega tuo padre e rinuncia al tuo nome e io non sarò più una Capuleti. Non è che il tuo nome che mi è nemico. Tu sei te stesso, non un Montecchi. Cos'è un Montecchi? Oh, sì, qualche altro nome. Che cos'è un nome? Ciò che chiamiamo Rosa con qualsiasi altro nome sarebbe ugualmente profumato. Ugualmente profumato. Grazie. Grazie. Grazie.